Ciao sono Luigi Bullo, io sono Giuseppe Faraggi, io sono Salvatore, vi volevamo ricordare per il giorno 18 la seconda edizione di Babbo Natale in moto che si terrà a San Cataldo. Dopo il successo fatto registrare la scorsa edizione, circa 300 centauri si raduneranno domenica alle 9 davanti al monumento ai caduti e vestiti da Babbo Natale sfileranno per le vie della città. Insieme a loro ci saranno le motovedette delle forze dell'ordine e dopo il raduno si avvieranno presso il Palazzo Comunale dove alla presenza delle istituzioni i Babbi Natale consegneranno doni, caramelle e panettoni ai bambini e alle comunità Germoglio e Alba. Un evento organizzato a scopo benefico, mi raccomando venite tutti, non mancate, vi aspettiamo, tutti presenti ci divertiremo e venite con le pangine vuote perché ci saranno tanti doni. L'iniziativa è stata organizzata da Luigi Bullo, dalla famiglia Faraci e altri collaboratori collaboratori.